Questa storia inizia un giorno, un mese, un secolo non precisato. Da allora, in Basilicata, ogni anno si ripete un rito misterioso e suggestivo, che quest'anno si è tenuto il 14 e 15 febbraio. Durante il Carnevale, a Satriano di Lucania, nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, gli uomini si vestono da alberi. Impossibile e inutile scoprire chi per primo è diventato rumit, uomo vegetale, albero vagante, maschera silente, che l'ultima domenica prima del martedì grasso gira tra le strade del paese strusciando il fruscio, un bastone con all'apice un ramo di pungitopo sulle porte delle case. Chi riceve la visita del rumit rispetta il suo silenzio e in cambio di un buon auspicio dona qualcosa. Il rumita è la maschera di Satriano. Il rumita rappresenta Satriano, non inteso solo come Satriano di Lucania, ma inteso in maniera più larga, in maniera più a 360 gradi, come rappresentante della ruralità della nostra regione Basilicata. L'uomo suolo che oggi diventa albero o l'albero che diventa uomo, che tutti insieme diciamo fanno la foresta che cammina e che rappresentano le tradizioni della nostra terra, con il rito della vestizione, dalla raccolta del redere, alla vestizione stessa, al fatto di conquistare una piazza, al fatto di conquistare o di bussare una casa. Noi diciamo sempre che il passato è fondamentale per vivere il presente, ma anche per costruire quello che è il futuro. I giovani satrianesi vogliono utilizzare il rumit per lanciare un messaggio ecologista universale, ristabilire un rapporto antico con la terra per rispettare gli uomini e le donne che la abiteranno in futuro. Grazie a tutti i nostri spettatori Nel 2012 Michelangelo Frammartino ci ha illuminato, ci ha fatto capire quanto fosse evocativa la nostra maschera, la maschera del rumita. Lui per la prima volta ha vestito 100 rumiti in una sola giornata. Noi abbiamo preso spunto da questa cineinstallazione che lui ha portato addirittura al Momo a New York e abbiamo cercato di far diventare il cinema una tradizione. Chi si veste da rumita si fa portavoce di un messaggio ecologista, perché basta guardare questa maschera per capire il rapporto indissolubile che c'è in Basilicata fra uomo e natura. La volontà di ristabilire un rapporto antico con la terra, per questo tutto l'evento sarà improntato nella ricerca del minimo impatto ambientale. La foresta che cammina, 131 rumit, uno per ogni paese della Basilicata, dal bosco entrano in paese e colorano di verde una piazza. Se lo bebo lo cammino, se lo bebo lo cammino, se lo bebo lo cammino. Siamo qui a Satriano, uno dei 29 borghi del Parco Nazionale. Il Parco Nazionale è l'ultimo dei parchi nazionali nati in Italia, comprende 29 comuni, 70.000 ettri di territorio, circa 80.000 abitanti. È un parco molto interessante da un modista della biodiversità, è ricco di acqua, di foreste, è ricco di prodotti enogastronomici. Nel parco vi sono tre prodotti GP, fagiolo, vino e canestrato di moiterno. Stiamo lavorando molto con la Carta Europea del Turismo Sostenibile. La nostra sfida è quella di poter arrestare la forte emigrazione dei giovani e il forte spopolamento dei comuni. Io spero che le popolazioni capiscano ancora di più il nostro sforzo e con loro dobbiamo fare i progetti, con loro dobbiamo lavorare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.